Ciao ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video abbiamo alcuni aggiornamenti importanti per quanto riguarda Shiba Inu perché è stato pubblicato un video molto ma molto interessante tramite Twitter in cui viene raffigurato Shiba Inu su uno schermo televisivo e accanto vediamo una forchetta e un coltello non so cosa possa significare potrebbe essere una collaborazione molto ma molto interessante e ne parliamo tra poco inoltre è stato anche pubblicato un articolo interessante e sembra essere una fonte sicura per quanto riguarda la regolamentazione delle cripto in America verranno regolamentate secondo questo articolo sia le criptovalute che le stable coins che gli NFTs e questo potrebbe essere molto molto importante e tra poco ve ne parlo prima di iniziare però come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace soprattutto se volete vedere il prezzo di Shiba Inu esplodere l'altra volta porto fortuna registramo un più 20% riproviamoci e se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che pubblico è importantissimo iscriversi perché io vi aggiorno sempre ogni giorno e questi contenuti sono altamente time sensitive infatti con Shiba Inu ogni giorno abbiamo notizie nuove ufficiali ovviamente quindi ragazzi adesso basta parlare iniziamo subito perché ci sono tantissime cose da dire e sono davvero contento di parlarvene iniziamo subito con la situazione del mercato in generale già vi ho detto che in questi giorni ci sarebbe stata tanta volatilità infatti così è stato stiamo vedendo i prezzi che continuamente registrano percentuali positive e poi riscendono bitcoin in questo momento si attesta intorno ai 36.000 dollari e anche ethereum è sceso parecchio siamo intorno ai 2395 dollari e tutte le altre altcoins ovviamente stanno performando molto male terra con luna sta correggendo tantissimo abbiamo visto percentuali positive però data la situazione del mercato e quello che è successo in questi giorni è normale vedere percentuali così anche per quanto riguarda Shiba Inu siamo scesi al 15esimo posto e il prezzo si aggira intorno agli 0,20 e soprattutto ragazzi la capitalizzazione di mercato è sugli 11 miliardi ovviamente già ve ne ho parlato spesso in questi giorni di quello che è successo quindi è normalissimo diciamo vedere prezzi del genere infatti se non hai visto i miei video passati ti invito a guardarli perché così capirai un po' meglio quello che è successo in questi giorni se già li hai guardati benissimo adesso continuiamo comunque la capitalizzazione di mercato di Shiba Inu sta risalendo un poco infatti nelle ultime 24 ore vediamo un più 0.35% che non significa nulla però ragazzi è stato pubblicato un tweet tramite l'account ufficiale di Shiba Inu che ormai conta milione e milione di followers 2,6 milioni di followers su twitter e questo video ha raggiunto quasi 400.000 visualizzazioni in meno di 13 ore quindi questo che significa ragazzi che Shiba Inu token è molto potente e io rimango sempre bullish per il futuro adesso voglio mostrarvi questo video che è stato pubblicato ieri che reputo molto molto interessante attenzione qualcosa bolle in pentola sarai pronto? ok ragazzi questo qui è il video inizialmente sentiamo una gallina poi vediamo Shiba Inu token su varie televisioni vari schermi e soprattutto poi alla fine si vede una forchetta e un coltello e questo che potrebbe significare una collaborazione con una catena importante ad esempio McDonald's oppure Burger King no perché Shido Shikusama tramite Discord ha affermato che questo non accadrà almeno per adesso e qui si parla ragazzi di una cosa ancora più importante di una collaborazione incredibile che potrebbe essere quella con Netflix infatti da come leggiamo tramite Watcher Guru migliaia di commenti si sono già riversati alludendo ad una collaborazione tra Shiba e McDonald's oppure Burger King però Shido Shikusama ha negato per adesso questa collaborazione e ha detto che potrebbe essere addirittura una collaborazione con Netflix ragazzi cosa incredibile perché hanno detto che vogliono un cambiamento reale e duraturo soprattutto le voci su Shiba e un film su Netflix stanno circolando dall'ottobre 2021 dopo che Shido Shia ha ripetutamente etichettato Netflix alludendo a collaborazioni inoltre durante una sessione di domande e risposte su Discord il 20 gennaio Shitoshi ha rivelato di avere la sceneggiatura di un film e che gli sarebbe piaciuto produrla ha anche menzionato Netflix nella stessa chat dicendo Netflix potremmo vederlo il prossimo anno tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sullo sviluppo ed è passato all'argomento successivo quindi potremmo vedere realmente Shiba Inu su Netflix non so questo potrebbe accadere ragazzi se succede veramente il prezzo potrebbe esplodere ovviamente non vi sto dicendo di investire in Shiba Inu e di mettere i vostri soldi di rischiare i vostri soldi perché non posso farlo non sono consigli finanziari però l'importante ricordatevi è buy the rumor sell the news vedere un film dedicato a Shiba Inu su Netflix potrebbe essere tanta tanta roba davvero perché ovviamente ci sarebbe tanta visibilità per questo token e sicuramente il prezzo potrebbe raggiungere nuovi all time ma ovviamente attenzione non sono consigli finanziari non voglio che investiate i vostri soldi così a caso voglio che ci siano degli studi dietro voglio che facciate le vostre considerazioni e soprattutto che sappiate che comunque è un token molto volatile se non sappiamo gestirlo perdiamo soldi potremmo vedere realmente una pubblicazione di un film su Netflix in erente a Shiba Inu perché già in passato Shito Shikusama si è espresso al riguardo ha già detto che ha una sceneggiatura su un film e potremmo vedere questo chissà nel video su Twitter leggiamo something's cooking poi ascoltiamo il rumore del gallo vediamo una forchetta e un coltello potrebbero significare tantissime cose non per forza che sia un film su Netflix potrebbe essere anche una collaborazione con una catena del food non so vediamo che succede sicuramente in questi giorni sapremo di più e voglio sottolineare ragazzi che questo video è stato pubblicato 13 ore fa e ha raggiunto quasi 400.000 visualizzazioni più di 20.000 mi piace su Twitter più di 7.000 di tweet e guardatevi un po' le meme coin che sono su Twitter nessuna qua si registra numeri del genere soprattutto perché Shib Token è molto attivo sul loro account fa spesso tweet e i numeri sono sempre altissimi l'unica che sta performando molto bene è Baby Doge infatti vediamo anche il nuovo listing su BitGet e io resto bullish per Baby Doge perché abbiamo registrato percentuali positive e se ci saranno listing importanti il prezzo potrebbe reagire ovviamente positivamente adesso continuiamo perché voglio dirvi altre cose super super interessanti perché Robinhood che per chi non lo sapesse è un'applicazione in America che permette di acquistare le cripto variazioni eccetera ha subito una perdita del 15% e una perdita in dollari di 423 milioni quindi questo cosa può significare? significa che Shiba Inu potrebbe essere listato su Robinhood e vi dico che quando questo succederà il prezzo subirà una bella variazione tengo a precisare una cosa importantissima anche se il mercato è giù e in questi giorni vi ho spiegato cosa è successo per quanto riguarda l'FOMC perché Jerome Powell che sarebbe il presidente della Fed ha parlato durante l'FOMC ha detto tante cose importanti di cui ho parlato nei video scorsi per questo vi invito a guardarli se non l'avete visti perché sono importantissimi per capire cosa sta succedendo nel mondo cripto però vi ripeto che il mercato sta scendendo e per questo anche MMToken come ad esempio Shiba Inu stanno perdendo percentuali e vi invito ad essere pazienti una cosa super super importante dimmi vado a prendere la cartella ok torno qua sto registrando comunque saluta ciao scusatemi era la mia ragazza comunque voglio dirvi in tutto questo che anche se Shiba Inu è una meme coin tra tutte le meme coin che sono disponibili sul mercato e che sono a livelli alti per me rimane la migliore l'unica meme coin che si trova tra le prime 10 invece ovviamente Dogecoin però vi dico già vi ho detto che non sono molto simpatizzante perché Dogecoin dipende molto da quello che dice Elon Musk in base ai tweet di Elon Musk Dogecoin subisce variazioni sappiamo che è stata implementata come metodo di pagamento per pagare il merchandising di Tesla però lo stesso non mi piace molto perché quando Elon Musk tweet Dogecoin esplode e per questo vi dico che non mi piace tantissimo poiché Shiba Inu a differenza di Dogecoin ha tantissimi catalizzatori che gli permettono di essere comunque molto potente e ha ancora tantissima strada perché comunque Dogecoin è scesa parecchio anche a 18 miliardi di capitalizzazione di mercato invece Shiba Inu ce ne ha 11 però questo è un altro aspetto tecnico di cui non parliamo adesso già ne ho parlato in passato e voglio solo farvi capire che il potenziale di Shiba Inu è tantissimo è qui per restare e secondo me con tutti questi progetti che ci sono in ballo ne vedremo delle belle per le tante collaborazioni che stanno facendo con Play Studios per l'NFT Game per la DAO che è in arrivo soprattutto anche per il layer 2 che uscirà forse per quest'anno cioè la Shibarium e vediamo poi cosa ne esce anche da questa collaborazione detto questo ragazzi adesso andiamo avanti perché voglio parlarvi una cosa importante per quanto riguarda la regolamentazione delle crypto in America perché stamattina è stato pubblicato questo articolo che si rifà a un giornale molto importante che si chiama Barons è un settimanale giornale americano pubblicato da Dow Jones & Company fondato nel 1921 quindi un giornale molto serio secondo questa fonte nelle prossime settimane dovrebbe essere rilasciato un documento che vada a regolamentare gli asset digitali che sarebbero cryptovalute, stablecoin e NFT quindi ragazzi questa notizia potrebbe essere positiva da un certo punto di vista ma negativa anche positiva perché già come ho detto all'inizio regolamentare questo mondo è importante poiché più istituzionali possono entrarci poiché è regolamentato come se ci fossero delle linee guida che possono seguire per essere sicuri poiché molte persone non si sentono sicure al riguardo hanno paura che sia una cosa illegale per questo non investono se invece verranno regolamentate potremmo vedere la mass adoption aumentare e questa notizia è positiva però la regolamentazione potrebbe anche portare un po' confusione nel mercato e possiamo vedere i prezzi ulteriormente scendere tra qualche settimana vediamo se effettivamente questo documento verrà pubblicato se così sarà come al solito io vi aggiornerò quindi è importantissimo seguirmi iscrivendovi al canale basta un click per iscriversi attivate anche la campanella così rimarrete sempre aggiornati detto questo adesso continuiamo perché voglio parlarvi di un nuovo listing per Shiba Inu è stato listato su Beconomy Exchange eccolo qui il tweet ufficiale e questa notizia è sempre positiva per quanto riguarda il prezzo di Shiba Inu sul grafico siamo sotto la media esponenziale a 21 periodi ovviamente anche a quella a 50 questo è il negativo se riuscissimo a superare la media a 21 periodi potremo vedere un bel rialzo del prezzo per quanto riguarda invece Bitcoin stiamo scendendo già ve l'ho detto siamo in questa falling wedge come al solito anche se vediamo dei volumi importanti in questi giorni dopo quello che è successo con la FOMC per quanto riguarda la Bitcoin dominanza stiamo continuando a salire siamo al 42% e questo potrebbe essere negativo perché già ve ne ho parlato ieri se vediamo la Bitcoin dominanza salire però il prezzo di Bitcoin resta stabile è un segno negativo perché il mercato non si sta riprendendo realmente per quanto riguarda il Fear Green Index di Bitcoin stiamo risalendo siamo al numero 24 ieri al numero 23 settimana scorso a 20 la settimana scorsa ancora 19 last month mese scorso 27 piano piano stiamo risalendo e questo è positivo per quanto riguarda l'altcoin season index siamo lontani dall'altcoin season e stiamo andando verso la Bitcoin season perché tutti i soldi sono riversati in Bitcoin per i motivi di cui già ho parlato prima di lasciarci vi invito anche a seguirmi su Instagram perché vi aggiorno 24 ore su 24 su tutto quello che pubblico ci sono sempre notizie nuove vi aggiorno 24 ore su 24 vi ripeto quindi è importantissimo seguirmi anche lì e soprattutto ragazzi il mio profilo ufficiale è privato per ora il profilo privato perché un account finto mi ha copiato tutte le foto tutto prima di lasciarci volevo anche parlarvi di Crypto.com perché tramite il mio nick che trovate qui in basso in descrizione ricevete anche i 25 dollari bonus se mettete in stake 350 euro per la carta ruby la carta rossa avete anche degli incentivi come il cashback oppure Spotify gratis basta solo cliccare sul link che trovate qui in basso in descrizione e vi scrivete in pochissimi click e il gioco è fatto e lo stesso vale anche per Young Platform perché tramite Young Platform avete 10 euro di bonus se depositate minimo 50 euro e come al solito anche il link di Young Platform è qui in basso in descrizione io faccio un piano d'accumulo perché c'è possibilità di impostare l'acquisto ricorrente e in pratica investo una somma fissa al mese in bitcoin e di ethereum così vado a mediare il prezzo ed abbattere la volatilità grazie mille a tutti per la visione di questo video vediamo un po' che succede con Shiba Inu io resto sempre bullish per il lungo termine perché possiamo registrare nuovi all time high di Shiba Inu quando il mercato si riprenderà e quando avremo questi catalizzatori che soprattutto andranno in porto perché i progetti sono tantissimi e sicuramente ne vedremo delle belle vi ringrazio tanto per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportarmi e se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che è pubblico iscrivetevi al canale questa frase ormai devo tatuarmela qui sul petto così non la ripeto più però va bene così grazie noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao